Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi siamo qui con lo showcase del Vegeta Family, soprattutto appunto a Trunks Rage. Che dire ragazzi, non vedo l'ora di provare questo personaggio e... che dire, non perdiamoci in chiacchia. Minchia ragazzi, che lag, eh? Vabbè. Vabbè, colpissimi che Tanks si bacca ancora di più. Vai, vai. Ah, troppo precipitoso. Oh, maan. Oh, maan. Brava. Buona. È andata la prima, finalmente. Bene ragazzi. Allora, il team mi sembra bene, però mi sembra di vedere anche alcune lacune. Però, beh, dai. Passiamo al secolo. Bene, bene. Vediamo come va. Vediamo, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda. Uh, vero. Vero, vero. È la Gon Super Saiyan 2. Molto, molto forte. È bravo, il mio Trunks che tanka pure. Oh, mh, maan. In realtà, l'idea era svizzare prima o poi, vabbè. Sta laggando di brutto. Sta laggando di brutto. Dai, le legends, forza, eh. Dai, le legends, forza, eh. Su, ce la puoi fare. Dai, metticela tutta. Dai, grande legends. Finalmente, fenomeno, 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 legends. Eh, finalmente ce l'ha fatta. Woof, 몸a live. Grazie. Guarda. Guardate. Guarda. 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 Bruttissimo, brutissimo, brutissimo Non, non quello voglio lasciare, non quello voglio lasciare Bomba, 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 bomba Bomba, bomba, bomba Ok, ok, bellissimo Oh, devo dire che il Vegeta Family ragazzi mi sta piacendo davvero davvero tanto Secondo me gli manca qualche altro PG da aggiornare Secondo me con questo Trunks è proprio preso la strada giusta Poi vabbè, ovvio, come avete visto io ce l'ho anche stellato Quindi posso capire questo bel upgrade che vedo Però vabbè Detto questo passiamo al nostro terzo Bene, bene, vediamo, vediamo Questo qua è un team abbastanza scorauso Ovviamente deve laggare Sì, certo Come se non è un Stable Vabbè, l'ho sentita Ora ecco, non era un bot anche perché faceva parte di un agenda Ok, va bene Ah, una fregata, una fregata, una fregata Questo è che dico, va bene Pisa un po' qua Via Ok Ok, un giusto è quello che mi canti Vai Veget Ok, 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 ok Bomba Bene ragazzi, questo era il showcase di Trunks Super Saiyan Rage Davvero ragazzi, secondo me questi PG anniversario sono tanta ma tanta tanta roba Davvero, PG fantastici, fortissimi e performano davvero la grande Però vabbè, essendo anniversario è giusto che sia anche così Vegito blu è un po' troppo esagerato ma questa è un'altra storia Detto ciò ragazzi, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale Attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun altro video Condividere il video con i vostri amici Scrivermi sotto nei commenti cosa ne pensate di questo Trunks Rage Io personalmente lo adoro, davvero PG, bello, bello, bello Vi ricordo in descrizione i vari link Pagina Instagram Dragon Ball Legends Rokugan E della paginata, eh sì, pagina Del gruppo Telegram Chat Rokugan Fighters Insomma, dove potrete migliorare la vostra esperienza di gioco su Dragon Ball Legends Scambiarci consigli, fare partite amichevoli Insomma, un po' di tutto, ci divertiamo Detto ciò, noi ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi